Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un outfit femminile ragazzi, per tutte quelle donnine che mi seguono e anche per chi ha il personaggio donna, vi porterò questo outfit semplicissimo, per questo outfit abbiamo bisogno di questo completo che state vedendo e di una moto ragazzi, niente di più. Allora, in primis andiamo dove sono le scarpe, mettiamo una sneaker bianca che è la classica, oppure possiamo mettere anche queste qui alte, sempre bianche, poi è a vostro gusto ragazzi, io metto quella da ginnastica, perché ho intenzione comunque di fare un completo tendenzialmente bianco e nero, è un completo veramente semplicissimo ragazzi, non ha niente di che di moddato, però a volte la semplicità ragazzi è molto carina. Allora, a questo punto andate in magliette nei pantaloni e mettete una smanicata, una smanicata bianca ragazzi, poi andiamo in giubbotti da lavoro e qui potrete scegliere quello che vorrete mettere. Io però, come ho già detto, seguirò una corrente del bianco e del nero e quindi andrò a scegliere un giubbotto da lavoro bianco ragazzi. A questo punto andiamo a salvare, ma prima di salvare che cosa facciamo? Mettiamo in primis un paracadute ragazzi e mettiamo un guanto nero, un guanto nero ma andremo a mettere un guanto lungo, quelli del DLC di San Valentino o meglio questi qui ragazzi, questi qui con questo tipo di maglietta smanicata rimarranno visibili, quindi li potete mettere tranquillamente, neri, rossi, verdi, non verdi, non ci stanno, però insomma i colori che ci sono. A questo punto ragazzi l'ultimo passaggio è abbastanza semplice, è quello di mettere il respiratore con il casco antiproiettile, come ho già detto questo completo è veramente semplicissimo, è elementare, però a me è piaciuto, lo stavo facendo per me, è piaciuto e l'ho fatto. Allora in primis ragazzi dovete avere nei settaggi di caschi dovete mettere casco antiproiettile, poi dovete impostare mostra casco sì e mostra casco veicolo sì insomma, dovete impostare sì in maniera tale che quando salga diciamo sulla moto, voi abbiate il casco antiproiettile come avete appena visto che è successo a me. Adesso vi faccio rivedere ragazzi, queste sono le impostazioni che dovete avere, quindi vi faccio vedere, come vedete ragazzi appena salgo in moto, il mio personaggio si mette il casco antiproiettile. Quindi noi avremo l'opportunità di poter mettere il respiratore con il casco antiproiettile, in altre forme non mi sembra che si può mettere, quindi questo mi sembra che sia l'unico glitch per poterlo fare. Io mi ricordo questo, quindi non so che dirvi ragazzi. Allora come vedete se io vado per andare in moto e ci vado già con il respiratore non mi mette il casco, ma se tolgo il respiratore e poi lo rimetto mi mette il casco, dopodiché scendiamo velocemente dalla moto e andiamo qui vicino a... ma non compriamo nulla in pratica, premiamo la freccia destra senza comprare nulla e il casco ci rimarrà ammesso ragazzi. E' abbastanza semplice, andremo a salvare il nostro completo in maniera tale che ci rimanga e poi se vorremmo potremo mettere un occhiale, un bracciale o quello che vogliamo ragazzi. Potete mettere, non so, un occhiale di questo tipo, a me non piace, quindi andrò a mettere un altro tipo di occhiale, però comunque sia potete mettere quello che volete. A questo punto vi faccio vedere, potete anche mettere dei bracciali sui guanti, poi dipende sempre dal vostro gusto ragazzi, non potete mettere delle sciarpe, non potete mettere altre cose, perché il gioco non ve le lascerà mettere, però magari dei bracciali ve li lascerà mettere. Io metto quello nero più elementare, che diciamo si abbina un po' con tutto, però anche l'argento ci sta bene, quello con i puntali ci sta bene, poi dipende tutto dal vostro gusto ragazzi. Quindi spero che questo completo veramente semplice vi piaccia, perché è veramente semplice come completo, però è abbastanza carino. A me è piaciuto, lo stavo provando per me, stavo provando qualcosina e mi è uscito fuori questo completo tra tutti i vari bug che stavo provando. Detto questo ragazzi, come ho già detto, spero che il completo vi piaccia, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Ciao a tutti.